Pronuncia a parte, le burn away cakes sono molto a tema con questo periodo. Nel primo caso questa torta, che è stata fatta con base cacao, bagna aromatizzata, crema al mascarpone e quelli di frutti di bosco, è stata realizzata per fare una festa di addio ai venti. Quindi ho fatto la prima stucatura e poi colorata di nero, solo per l'altezza, per adesso. Perché la parte sotto centrale deve rimanere bianca. Poi capirete perché. Ho quindi realizzato le balze e i ciuffi a stella aperta francese sia sotto che sopra. Le perle alimentari. E poi ho inserito la stampa alimentare che sarà nascosta sotto. La scritta va circondata con dei ciuffi e sopra l'altra stampa alimentare. Anche qui vanno fatti dei ciuffi sopra. Sono importanti sia per far aderire le stampe che per fungere da barriera per la fiamma. E infatti ecco il risultato finale dal video che mi ha inviato la festeggiata, in cui brucia la parte della stampa centrale per dare l'addio ai venti e il benvenuto ai trenta. Quest'ultima torta invece ha base vaniglia, bagna aromatizzata, cream cheese, caramello muu salato, croccanti di pistacchi e arachidi e come colori esterni le tonalità del blu. Qui avevo delle richieste specifiche, quindi le balze le ho realizzate di un colore più chiaro, i ciuffi sopra e sotto, dello stesso colore della base. Poi con stampante alimentare ho ricavato questa immagine che mi ha inviato la festeggiata, che ho ritagliato e incollato su pasta di zucchero con cola alimentare. Vanno fatti dei ciuffi sempre intorno e sopra l'altra stampa. Qui non ci deve essere pasta di zucchero, di nuovo i ciuffi. Poi come altri elementi decorativi dovevo inserire le perline alimentari e i delfini, che ho sempre stampato con stampante alimentare, ritagliato e incollato su pasta di zucchero. E anche qui abbiamo il video della festeggiata dove possiamo vedere il risultato finale. Che ne dite?